Eila, ciao a tutti! Da Redoromiti? Beh, non proprio! E neanche da Caorle, dal Lido di Jesolo, da Padovo o da altri posti. Perché ci troviamo, Tana, negli studi di Radioluce, la vostra radio di famiglia. E queste qui sono alcune delle cartoline arrivate negli ultimi giorni qui in radio. Volevamo, con questo piccolo video fatto così al volo, ringraziarvi per la vostra amicizia, per il vostro affetto, per il vostro costante ascolto. Guardate i vecchi 33 giri che girano ancora. Un grazie per le vostre telefonate allo 0423 56 77 44 raccolte qui. Per i vostri messaggi sms raccolti da questo vecchio Nokia, eccolo qui. Oppure i messaggi Whatsapp che arrivano qui sul monitor. E in questo caso il numero è il 340 33 62 186. Un grazie per la vostra amicizia su Facebook. Ecco che ci arriviamo. Questa è la pagina ufficiale. Ci trovate semplicemente come Radioluce San Zenone degli Ezzelini Treviso. E poi naturalmente un super ringraziamento per il vostro sostegno concreto. Eh sì, perché la radio fin dalla sua fondazione nel lontano 1982 vive anche con l'importante contributo con le donazioni degli ascoltatori. Ecco lo studio ospiti dall'altra parte. Come farci arrivare una donazione ringraziando quelli che lo stanno facendo da tantissimi anni. Quelli che l'hanno fatto da poco per la prima volta e quelli che lo faranno. Beh, è semplicissimo. Potete passare a trovarci nei nostri studi. Dove ci troviamo? Beh, presto detto. Ci troviamo in centro a San Zenone a fianco della chiesa parrocchiale. Qui siamo proprio dietro la chiesa. Vedete? Eccoli. Lì c'è la strada Bassano-Asolo. Questo è il retro della chiesa parrocchiale. Bene, richiudiamo, ritorniamo in studio. Oppure potete fare che cosa? Beh, quindi passare a trovarci qui in sede a fianco della chiesa di San Zenone, via Roma 2 barra C. Oppure potete fare una donazione attraverso un bonifico bancario i cui dati trovate nella sezione donazioni, vedete, dal nostro sito Radio Luce TV. Clicco con voi su donazioni, vediamo cosa ne esce. Ecco, ne escono tutte le modalità e in particolare vi viene ricordato che potete passarci a trovare in studio oppure effettuare un bonifico bancario. E qui ci sono tutti i dati per il bonifico. Codice IBAN ed altro ancora per fare un invio di denaro sul nostro conto corrente bancario da qualsiasi parte del mondo. Quindi è facilissimo e semplicissimo ed è grazie a voi, ripeto, che la radio dal lontano 1982 continua a fare il suo servizio per le famiglie, per gli anziani, per i malati, ma anche per i giovani, per i ragazzi, per tutti direi. Proprio per tutti. Grazie allora, a nome di tutti noi dello staff della radio, per essere sempre dei nostri e naturalmente buon ascolto della vostra radio di famiglia. Ciao a tutti.